Qua te vanno frumentum in gallia propterticitates Augustius, Rovenerat, Cesare aliterrax superiore busannis exercitum minimernis collocavit, legionesque implures civitatis distribuit, e arumunam quinto Fabio utimorinos duce dedit, alteram quinto Ciceroni utin nervios. Terziamo il luce rosso utremis yamaret. Cioè, poi chiedono perché sta roba la fanno all'università. Per chiedere a mia dirittura di propedeutica o sta roba sono Cicerone. Io comincerai a mettere un capuleio. Quod, andiamo ad iniziare con una proposizione subordinata causale, che finisce qui. E vanno, abs2, abs2, determinativo, frumentum, ns2, ingaglia in, più abs1, combo di in, più ablativo, benissimo, complemento di stato in luogo, propterticitates, quindi complemento di causa, benissimo. A, c, p, tre, benangustius, avverbio, al comparativo, venerat, verbo, terza persona singolare, indicativo, più che perfetto, attivo. Cesar, andiamo nella principale, ns3, aliter, avverbio, ac. Superioribus annis, quindi, a, b, p, 2, a, b, p, apice 3. Exercitum, a, c, s, 2. Inibernis, in, più, a, b, p, 2. Colocavi, terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo. Gionesque, a, c, s, p, sembra quasi il nome della ditta. A, c, s, tre, in, plurus, civitatus, a, c, p, apice 3, a, c, p, tre. In combinazione con in, quindi complemento di ml, distribuito, verbo, terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo. In quanto quell'anno il frumento in Gallia, a causa dell'esiccità, era venuto in maniera più angusta, quindi era venuto in maniera più stretta, era venuto più strettamente, gli stiamo arrivando, era venuto meno. Cioè sarei difficilmente, ma io direi più diversamente dagli anni passati, dispose nei quartieri invernali le legioni, o meglio, dispose nei quartieri invernali l'esercito. Qui siamo già nella coordinata. Tanta attenzione a questa, eh, come diciamo anche sempre ai nostri studenti, sempre andare a seguire ciò che ci dice il testo. Non importa quello che noi pensiamo, dobbiamo essere letterali. E poi quello che noi pensiamo arriva dopo, nel momento in cui la professoressa ci restituisce la verifica che noi abbiamo fatto, che è tutta completa, l'abbiamo preso undici. E distribuì le legioni in diverse nazioni. E arum, g, p, del determinativo, unam, a, c, s, in questo caso un pronome numerale. Quinto fabio, d, s, 2, stessa roba qui. Ultimo rinos, duceret, questa, eh, proposizione subordinata, finale, va bene, a, c, p, forse metonimico, sinedotico. A, c, p, 2, duceret, verbo, terza persona singolare, congiuntivo, imperfetto, attivo, dedit, verbo, terza persona, si direi proprio che è finale perché non ha cognizione volitiva questo verbo, terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo, alteram, sempre pronominale, a, c, s, 1. Quinto ciceroni, abbiamo non dormire, sveglia, d, s, 2, u, di nervios, stessa costruzione, a, c, p, 2, terza, am, a, c, s, 1. Lucio rosso, d, s, questo è, finisce nì perché è ciceronis, quindi è, di testa ciceronis, ciceronis, ciceroni, di s, 2, ut, in, remis, stavolta, è, a, b, p, che differenza c'è tra questo e gli altri perché sta roba è all'accusativo e questa all'ablativo, semplicemente perché questa è in luogo e questa è a luogo, chiamare, verbo, terza persona singolare, congiuntivo, imperfetto, attivo. Di quelle, una la diede a Quinto Fabio affinché la conducesse nel territorio dei Morini, un'altra a Quinto Cicerone affinché lo stesso, ma nel paese dei nervi, la terza a Lucio rosso affinché svernassero nei territori remi. Trez in Belgi, scolo cavit, e direi che possiamo collocare molto bene anche il metodo dei LAC nel metodo migliore in questo momento in Italia e in Europa, sostanzialmente considerando i risultati che ci dà in quanto tempo abbiamo svolto questa roba. Ah, ovviamente se sei una professoressa di latino o un professore o comunque mastichi il latino puoi controllare su qualsiasi sito, mi viene un po' l'orticaria a dirlo, però di traduzione, diciamo di autocorrezione se quello che sto dicendo è giusto o ho sbagliato qualcosa. Nel caso tu voglia apprendere questo metodo o lo voglia far insegnare a tuo figlio o magari lo vuoi apprendere anche te perché sei una docente e vuoi finalmente non dover più dare giustificazioni alla dirigente per tutti i debiti che dai a fine anno, scrivici sotto in descrizione. Ed è ismarcum crassum questorem educium munatium plancum encaium treborium adolescentem vigenti quinquanorum com decennis centurionibus prefecit. Una legione contribuosante mentibus transpadum conscriptorant e cortesquimpoe com sex agenti seguiti bus in ebulones misit ed ecco il titulio sabino commisit. E equimperavit ne ante veris inizium ullum prelum committeret. Tres, semplicemente tre, in belgis abp2, collocavit verbo terza persona singolare, indicativo, perfetto. Tipo, et, e, eis, dp da determinativo, marcum crassum, acs2, apposizione questorem, acs3, e lucium nazium plancum ancora acs2, eccaium trebonium ma così è troppo facile acs2, adorescente ancora a posizione vigenti quinquenque anorum gp2, questo qua è numerale, indeglinabile, rimane sempre così, acs3, si riferisce a trebonio, cum di compagnia decennis centurionibus prefecit abp3, perbo terza persona singolare, indicativo, perfetto. Tipo, una legione ma acs1, qua una posizione subordinata relativa. Finiscia con scripsalat, tribus, va con mensibus, ante vuol dire prima, abp, mensis mensis transpadum, quindi acs2, con scripsalat verbo terza persona singolare, indicativo, più che perfetto, attivo, è cortes, acp3, quinquenque, cinque, cumus exagenis, equitibus, attenzione perché questa è abp ma quarta. Questo è semplicemente sul numerale 60, in eburones, acp, di quanto a luogo, misit, verbo 3, terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo, am, acs, determinativo, quinto titurio, ds2, molto bene. Sabino, stessa roba, con misit, verbo terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo, eique, collenclitico, vuol dire, eids, imperavit, verbo terza persona singolare, indicativo, perfetto, attivo, ne, proposizione subordinata, completiva, volitiva, di sapore negativo, anteveris, antegs, primovere, d'annunzio sta ridendo, ma soprattutto nella sua versione tra, per far ridere noi, inizium, acs2, ulum prelium, questo va con ante, ed è per questo che abbiamo un doppio accusativo, questa bc2, questo 2, perché neutro, comitterat verbo, terza persona singolare, congiuntivo, imperfetto, attivo, ne collocò tre, nei territori belgi, e, a queste, mise a capo, il questore Marco Crasso, e Lucio Munazio Planco, e Caio Trebonio, ragazzo sveglio, NDR, di 25 anni, vabbè, cazzo per essere lì, eh, non poteva essere stupido, con 10 centurioni, mandò nel territorio degli Eburoni, una legione, la quale aveva arruolato, tre mesi di prima, al di là del Po, allo stesso modo mandò 5 corti, con 60 cavalieri, e consegnò questa a Quinto Titurio Sabino, e a questi, comandò, di non attaccare alcuna battaglia, prima dell'inizio della primavera, soprattutto in periodi abbastanza contorti, come questo, vediamo che Cesare, così come Cicerone, d'altronde, non è super facilissimo, ma con il nostro metodo, con il metodo DELAC, che si compone, ripetiamo, di fasi non preconfezionate, ma stabilite, che danno il potere a tutti di tradurre bene questa roba, le fasi dell'analisi, della ricomposizione, della traduzione, questo diventa estremamente facile per tuo figlio, per tutte le indicazioni, contattarci sotto in descrizione, ammesso che non siamo già pieni.